Il liceo scientifico Carlo Pisacane di Padula con i suoi docenti e i suoi alunni prosegue negli eventi di apertura extrascolastica per rappresentare la scuola e l'ampia offerta formativa che consente ai ragazzi che sono chiamati a scegliere l'indirizzo di studio superiore di poter avere una chiara idea di quelle che sono le prospettive di crescita e formazione offerte dall'Istituto Padulese. Proseguono gli appuntamenti con gli open day in cui i ragazzi e ragazze che frequentano le classi terze delle scuole secondarie di primo grado possono conoscere l'ampia offerta formativa del Pisacane che pur mantenendo il valore liceale li apre anche al mondo del lavoro. Oltre al percorso di studio del liceo scientifico ragazze e ragazzi possono anche optare per altri indirizzi di studio come il liceo delle scienze applicate, l'indirizzo biomedico che avvia i ragazzi ad una futura scelta delle professioni mediche o sanitarie attraverso specifiche forme di studio, il liceo matematico è basato su un'ampia e dettagliata infarinatura delle scienze matematiche. Inoltre è possibile optare anche per la formazione quadriennale che consente agli studenti di essere formati al pari di tutti i ragazzi europei. Un'ampia scelta e un'attenta e mirata formazione per mettere in condizione agli studenti al termine del percorso di studio di poter essere formati a qualsiasi scelta. I ragazzi che si diplomano al liceo scientifico di Padula hanno delle opportunità enormi sia nel campo diciamo soprattutto nel campo universitario dove i nostri ragazzi diciamo hanno una percentuale di abbandono che è veramente bassissima parliamo di uno massimo due per cento e anche alcuni si sono diciamo cimentati nel campo del lavoro con dei risultati altrettanto ottimali. Diciamo che l'offerta formativa è allargata con tutti i percorsi pomeridiani che questa scuola offre che riguarda progetti sia culturali ma anche progetti sportivi, progetti di competenze anche linguistiche con certificazioni sia linguistiche ma anche certificazioni informatiche che poi i ragazzi potranno spendere una volta che diciamo andranno all'università. Quindi un'offerta vasta sia curriculare che extracurriculare. Una scuola che è una vera e propria famiglia dove i ragazzi possono godere di numerosi spazi per le attività pratiche e per le relazioni sociali. L'open day come tutte le altre attività che si svolgono in questa scuola è un'attività importantissima. I ragazzi imparano in queste giornate a confrontarsi con persone esterne alla scuola. Quindi per loro è un modo di arricchire quello che è il loro bagaglio culturale. Quindi sì la scuola viene consegnata durante questi open day, la scuola viene consegnata nelle mani dei ragazzi. Le iscrizioni sono aperte fino al 10 febbraio e nei prossimi fine settimana il liceo scientifico ha programmato nuovi open day per conoscere l'offerta didattica. Noi invitiamo i ragazzi della scuola secondaria di primo grado, delle terze della scuola secondaria di primo grado, a partecipare ai prossimi open day che ci saranno domenica prossima 28 gennaio e ancora sabato 3 febbraio sempre dalle ore 16 alle ore 19 e 30. Quindi invitiamo tutti a partecipare. La segreteria è a disposizione per le iscrizioni tutti i giorni dalle ore 8 e 30 alle ore 13 e 30, tutti i mercoledì e giovedì pomeriggio dalle ore 14 alle ore 17 e in occasione degli open day la segreteria sarà a disposizione di tutti i genitori che vogliono fare l'iscrizione direttamente qui a scuola.